Ciao ragazzi, sono io Mirko della The Grado Family e finalmente dopo, beh si può dire, un anno, perché l'anniversario è ogni anno, eccoci qua al nono anniversario di One Piece Treasure Cruise. Allora ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like a questo video, che portiamo un sacco di bei contenuti. Allora ragazzi, come potete vedere ho 1092 gemme e niente, si pulla, allora la mia idea è di farne almeno 9 per arrivare a quello lì, poi dopo vediamo come va. E questa parte direi che non voglio esagerare perché vorrei pullare anche nella parte 2, quindi non farò 20 pull tutti qua, penso che ne farò 9 sicuramente, poi vediamo un po' come va. Ma adesso, senza indugio, iniziamo. Allora, primo pull, primo multi pull. Allora, mi mancano un sacco di super sugo festareare, quindi spero di trovarle perché se no sono nella merda. Allora, direi che non c'è un cazzo qua, perché non c'è stata animazione iniziale. Direi che partiamo proprio da schifo. Adesso vediamo, speriamo, ma insomma, senza animazioni niente, la situazione qui è molto molto tragica. Oddio, Zoro, questo qui non ce l'avevo, non è della nuova batch. In questo anniversario qua c'è di nuovo, che non li ho fatti vedere, scusate, ci sono due nuovi personaggi, doppi personaggi. Ah, questo asop è nuovo, questo qui è nuovo invece, è uscito adesso. Lo guardiamo al volo un attimo, riduce l'attackdown di 6 turni e se il nemico è immune a delay o status effect, applica almeno 20% di resistenza al rosso, verde e blu. Se no, lo ritarda l'attacco e raddoppia il danno dagli attacchi, insomma. Comunque vi volevo dire che la nuova Legend è il, cioè sono due, c'è il nuovo doppio personaggio Yamato Rufi, che ha la particolarità che con lo Switch diventa doppio, invece che con la Super. E poi c'è, che quello lì è esclusivo Super Raro, un Super Sugov Raro. Mentre l'altro è Oden Toki, sempre doppio, che è invece un Sugofest normale, insomma, una leggendaria normale. Qua intanto abbiamo trovato due poster rossi, speriamo in bene perché come vi dicevo sono un po' indietro con quelle Super. Ok, Zoro, vabbè, non è male per il Limit Break, ok. Brook, vabbè, insomma. Sì, sono boostati quelli della ciurma di Rufi, ovviamente, perché questa qui è la parte di quella di Rufi. Non ho capito se poi ci sarà una seconda parte dell'anniversario, ma comunque intanto io pullo in questa, poi vediamo. Allora, poster, questo qui è garantito, un Sugov Raro garantito. Franky, infatti, abbiamo trovato Zoro, Franky, Brook, va bene. Ripeto, per il Limit Break è buono, comunque. Poi passiamo al terzo, speriamo di trovare cose un po' più succulente, diciamo, perché qua la situazione è grave. Intanto animazione, quindi speriamo in Legend. Vabbè, il banner ve l'ho un po' schippato, però comunque tendenzialmente c'è il 15% di probabilità di trovare una leggendaria in più. E ci sono le Super Sugo disponibili, perché è un Super Sugo Fest, non è un Super Sugo Fest normale. Troviamo, vabbè, Rufi, quello del film, Stampede. Insomma, dai, su. Jack. Vediamo, questa qui è una Legend garantita, vediamo cosa c'è. Mioc, di Halloween. Insomma, vabbè. Passiamo al quarto multipool, intanto le gemme che scendono vertiginosamente. C'è un po' di... così. Che abbiamo l'animazione neanche completa, quindi proprio il peggio del peggio, diciamo. Spero mi servirebbero, vabbè, non mi sto a ripetere. Adesso vediamo un attimo che si trova, dai. Blueno Kobi, Rebecca. Vediamo un po'. Koala, Zoro, Killer. Pudding Legend, insomma, questa non mi serviva. Momo insieme alla Shinobu, Kuma, Raizo. e Legendaria garantita. Dai, su. Do flamingo. Vabbè, insomma, che merda. Va bene, ragazzi. Non sta andando molto bene. Adesso passiamo col quinto, però, cavolo. Cioè, dai, su. Vogliamo la roba croccante. Noi vogliamo le cose buone, croccanti. La Legend nuova, qualche, comunque, Super Legend, che non siano quelle che ho già, che già sono poche. Cioè, se puoi ritrovo anche. Vediamo, animazione completa. C'era anche... Influisce anche il dugonghino sulla barchetta, da quello che ho capito. Vabbè, io le animazioni... È da quando le ho messe che, appunto, non le capivo. L'ho detto anche in quel video là, che... Insomma, vabbè. Proprio bene. Oh, oh, dai, dai, Legend nuova! Legend nuova! Oh, sì, dai! Vamos, ragazzuoli! Questa qui, appunto, è la leggendaria nuova, che è uscita con questo sugo. Ed è anche quella super nuova, perché Oden Toki non è una super rara, una super sugo raro. È una sugo raro e basta, normale. Questa qui, invece, è una super sugo raro, quindi si trova solo nei super sugo fest. È molto forte. È molto forte. Si sperava in meglio, però comunque è molto forte. Praticamente è più forte se viene lanciata come doppio, che non ho capito in che senso, non l'ho ancora capito. Comunque, praticamente, è sia un doppio personaggio, che però diventa doppio, appunto, quando c'è lo switch effect super. Quando lo switchate, dopo averlo switchato otto volte, lo riswitchate e diventa il doppio personaggio. È il primo che fa una cosa del genere, di solito lo facevano quando usavano la super, invece in questo caso no. Comunque, se volete leggere al volo, le sapete. Le rumble è carina, non è male. Non so se si giocherà, ma secondo me sì, perché comunque è molto forte anche nelle rumble. Quindi direi veramente molto, molto buono. Potrei anche fermarmi qua, in realtà, eh. Se devo essere proprio sincero, perché la nuova l'abbiamo trovata, però comunque, dai, io cerco altro anche. Cerco anche le leggendarie, quelle belle, belle, importanti, super, che mi sono rimasto indietro. Buggy, carino buggy, sempre buono per un extra drop. Poi, allora, passiamo alla decima. La decima è un sugo raro rate boostato, che adesso non mi ricordo bene l'elenco, comunque è interessante. Non c'è nel dugonghino, nella barchetta, peccato. Comunque sì, sì, sono veramente soddisfatto. Adesso ci sarebbe anche, magari, da trovare Odentoki, però sinceramente è molto più rara questa qua di Legend nuova, rispetto a Odentoki, quindi direi veramente perfetto. Troviamo Kizaru, che non avevo ancora trovato, incredibile. Questo qui era della batch di Sengoku Legend, strano. Non l'avevo mai trovato, avevo trovato gli altri due, non quello. Ok, due volte, va bene. Va bene, va bene, va bene. Così sblocchiamo anche il support, diciamo. Vediamo qua cosa c'è. Marco, questo qui è il Marco, quello viola, giusto? Allora, vediamo questo qui, è il Sugoraro bustato. Vediamo che ci viene fuori. Oh, Odentoki, perfetto ragazzi, veramente perfetto. Io mi fermo, direi che non mi posso benissimo fermare. Adesso vedo una, volevo fare meno nove per avere il pull, quello con tutti i fuori. Allora, questo qui ragazzi è la nuova Legend, doppia. Questo qui è un po' più, come posso dire, di supporto. Quello là era più d'attacco, questo qui è più di supporto. Togli il Despair, la paralisi, cura la crew e aumenta i danni aumentando l'affinità e la resistenza agli slasher. Guadagni vita quando attacchi, fa cose di questo tipo, insomma. E con la super boosta gli slot effect, cioè con lo switch boosta gli slot effect. La rambolability è buona, non è male, sempre di supporto appunto, più forte è l'altro secondo me. Comunque veramente, veramente buono. E ok, dai, continuiamo a pullare, però sono veramente soddisfatto. Ho trovato i due personaggi nuovi, quindi guardate, io pullo così per sfizio, per il content un po', perché voglio farne almeno nove, perché mi sono stimato così. E direi anche che schippo completamente le altre parti e direi che pullo solo nella parte uno, perché ho trovato quello che dovevo trovare. Vorrei, come ho già detto, qualche altro super sugo che mi sono perso nei sugo fest passati, però comunque quelle nuove le abbiamo trovate. Questo pullo è completamente in un 50 gemme nel cesso, però va bene, non lo so. E' che questi qua fanno veramente schifo. E vabbè, però voglio arrivare al nono, che al nono c'è il 50% di probabilità di trovare una leggendaria, quelli di solito sono 10 leggendari. Ma, cioè, non è detto, cioè, 10 magari no, però sicuramente 5 dovrebbero essere. Poi comunque ci sono anche quelli da nuova batch, me ne mancano due, me ne mancano Nami e Robin, perché ho trovato solo Asop di quelli nuovi. Quindi comunque qualcosina ancora c'è, però diciamo che i pezzi grossi sono usciti, insomma, sono usciti. E sono molto contento di questo. Sabo, questo qui è tipo una delle prime leggendari mai uscite in game. Oh, quando si trasformano di solito ci regalano gioie, insomma. Vabbè, mica tanto. Vabbè, vabbè, andiamo a andare qui. Oh, ecco, questa qui è la nuova Nami. Se non ricordo male... No, ok, mi ricordavo male. Va bene, è Burn Special Bind. E aumenta l'attacco base. Carino, normale, niente di assurdo. È buona perché è quella nuova, manca solo Robin quello nuovo, poi dopo abbiamo... Poi quella nuova, poi dopo abbiamo tutto quello che è uscito di nuovo. Ecco, vedete? Tutti i post hanno il 50% di essere un sugo raro. Questo qui è l'ultimo multipool che faremo in questo sugo fest, che sono più che soddisfatto. Mi dispiace un po' appunto per il sugo, ma per le super, super sugo rare, però dai, non l'è perduto. Adesso vediamo. Allora, contiamole. Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque. Cinque su dieci è il 50%, giustamente. Quindi, cioè, non è andata di culo, ma neanche... Cioè, è andata normale, 50%, 50%. Killer, che ce l'avevo già. Comunque questo qui è quello nuovo, Legend, non male. Low, quello di Halloween, insomma. Oh, buonissimo questo. Questo mi mancava, perché dall'anniversario dell'anno scorso era l'unico che non avevo trovato. Questo qui, ragazzi, è il Kaido. Quello rosso, che questo qui è super sugo raro. E quello rosso, veramente forte. Questo qui è Striker Powerhouse. Questo è buono, buono. Finalmente l'ho trovato. Il top sarebbe trovare Yamato, Kaido, il versus. Però, vabbè, adesso non chiediamo troppo. Comunque quello lì è quello che mi mancava. Oh, Basil Hawkins. Ah, è quello, no, ok, è quello vecchio. Pensavo fosse Alessian, quello giallo che a me manca. Questo qui non era Robin nuova. E niente, questo non è un legend. Sì, diciamo che questo qui, 50%, insomma. Cioè, 5 su 11, non è proprio stato il 50%. Vabbè. Va bene, ragazzi. Io direi che sono più che soddisfatto. Abbiamo trovato le legend e quelle nuove. Un attimo solo che vi metto così. Ecco, così vediamo cosa abbiamo trovato. Direi veramente molto buono. Perché le due legend nuove ci sono. Questa qui veramente, veramente forte. È la prima che busta 6x, l'attacco, come Capitan Ability. Quando è insieme, quando è da solo, no. È tipo il 5x. Però, comunque, è tanto, veramente tanto. E poi Oden, Toki. La coppietta felice. Guardate, con i bambini. Va bene, ragazzi. Con questo vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mettete like. E vi anticipo che se avete bisogno di prodotti per quanto riguarda i giochi di carte e così, potete iscriverci in privato, che abbiamo, stiamo iniziando, diciamo, a mettere su magazzino, ecco. Per vendere alcuni prodotti così. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like. E ciao a tutti.